Era mezzogiorno inoltrato. Gesù, stanco, per il lungo viaggio si stava riposando accanto al pozzo di Giacobbe. I suoi discepoli erano andati nella città di Sicar per comprare del pane. Una donna uscì dalla città per attingere acqua e trovò il Messia. Il racconto narra che la samaritana subito dopo tornò in città e invitò gli altri a venire a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Giovanni 4 verso 29. I discepoli tornarono portando del pane. Quando esortarono Gesù a mangiare, egli rispose loro, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Versetto 34. Ma quale opera stava facendo Gesù? Stava riposando e aspettando presso il pozzo. Trovo grande incoraggiamento in questa storia perché al momento vivo con delle limitazioni fisiche. Essa mi insegna che non devo affannarmi e preoccuparmi riguardo al fare la volontà del padre mio e a compiere la sua opera. In questa fase della mia vita posso soltanto riposare e aspettare che sia lui a portare la sua opera da me. Allo stesso modo il tuo mini appartamento, la tua postazione lavorativa, la tua cella di prigione o il tuo letto d'ospedale possono diventare un pozzo di Giacobbe, tra virgolette. Un luogo in cui riposare e aspettare che il padre conduca a te la sua opera. Mi chiedo, chi ti metterà davanti oggi? Le circostanze possono spesso minacciare di sopraffarci. Dio ci aiuta a vederlo agire in ogni aspetto della nostra vita. Impariamo a fidarci di lui mentre compie l'opera sua. Se cerchi un campo di servizio, guardati intorno.